Vorrei dire che noi in Israele, almeno la popolazione, siamo non interessati in tutti questi discorsi razionali palestinesi e tutti che ho sentito qua. Ma per noi c'è uno scopo, distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto, perché non c'è la possibilità dopo l'olocausto che saranno ragazze ebrei in così situazione. Così situazione come che era 80 anni fa. Vorrei dirti così, sono stanco di questi discorsi, vorrei dirti così, dopo il 7 ottobre non sarà più la possibilità di ogni persona nel mondo che minaccia un ebreo, ogni persona che minaccia un ebreo, un ebreo con uccidere un ebreo, deve morire.